La gamma di forni Sapiens Reloaded è nata per soddisfare le esigenze di un mercato che richiede un forno combinato, semplice e il più intuitivo possibile grazie alla tecnologia digitale. Sia che si cerchi una cottura croccante e asciutta o una cottura succosa e morbida, i sistemi di controllo studiati dall'INOX danno sempre un risultato perfetto. I forni Sapiens Reloaded consentono di realizzare cotture a vapore e a bassa temperatura con precisione assoluta, mantenendo inalterato tutto il valore nutritivo degli alimenti. Ciò che consente di ottenere risultati ottimali con la cottura combinata aria calda più vapore è proprio Sapiens, che lo rende uno strumento indispensabile per gli chef. I programmi di cottura automatici sono semplici da gestire e assicurano risultati costanti e qualitativi con la massima efficienza. La rimessa in temperatura di piatti composti in contemporanea per la gestione di un evento non trova ostacoli nella qualità e velocità di esecuzione. Al termine del servizio, per avere il forno pulito e pronto per quello successivo, nessuna fatica e lavoro manuale. È sufficiente selezionare il livello di lavaggio più idoneo, dare lo start e per il resto ci pensa Sapiens Reloaded.